ah non ancora finito 5 non ancora finito 5 maglioni aspetta te più quando sei in peggio del renzo cazzo già c'è il renzo che fa così no ma li ha tolti adesso li rimette in sequenza diversa ma li rimette uguali c'è l'uscita comincia a metterli però al contrario quella sudata è l'ultima quella sudata mettila di fuori o gli si è ingrippato un braccio cambia sport